Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale di Giamatto, siamo ai piedi del gioco Not For My Gust Siamo tutti, ok? Like, iscrizione, commento, tutto di più, si può andare, andiamo? Mannaggia la puttana Ragazzi, mi sono fermato perché mi è entrata qualcosa nell'occhio non identificato Ma che stadiate, stadi cazzo Però non ce l'ho tolto, quindi vabbè Alla mia spalla dice, il diavolo della puta, lo sento? Che mi vuole cagare il cazzo Oh, vabbè Giavolo della tua Ecco, il diavolo della puta, riusciva a stare dietro? Vi dico già io, no È un animale, io lo prendo sempre in giro, ma lui è un animale Oh, ma lui è un animale Oh, ma invece Alla prossima Peccato nel momento peggiore Alla prossima 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 Ciao belli